Musei Civici di Como, Palazzo Giovio, Palazzo Lucini e Palazzo Olginati, a maggio i lavori e nel 2025 l'apertura al pubblico. La Giunta Comunale nei mesi scorsi ha stanziato 5 milioni di euro per il restauro, il consolidamento strutturale e l'adeguamento alle normative di prevenzione incendi. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Giunta Cittadina si legge che è necessario individuare le modifiche che comporteranno una variazione rispetto all'attuale destinazione d'uso degli ambienti. Con la soprintendenza stiamo catalogando e spostando i reperti per darle avvio ai lavori che partiranno verosimilmente nella prima settimana di maggio. Pertanto anche questo è un cavallo di battaglia dell'amministrazione comunale che vuole gradualmente riaprire totalmente i musei. Partiamo dal Garibaldi, le progettazioni e gli affidamenti sono in corso anche sul Museo Giovio per quanto riguarda i consolidamenti, prevenzione antincendi, gli allarmi e tutto quello che ne confessa. Nel dettaglio i lavori prevedono una nuova destinazione dei locali a pieno terra di Palazzo Lucini a sede museale la modifica temporanea dell'accesso principale alle collezioni museali dai giardini di Via Balestra funzionale al nuovo percorso espositivo del Tesoro di Como, la mostra sulle monete d'oro ritrovate in via di Azzacomo. Ancora l'utilizzo degli ex appartamenti in disuso di Palazzo Orginati come depositi di materiali del Museo Storico e lo spostamento della sede della Società Archeologica Comense nei locali di Palazzo Orginati attualmente liberi con accesso indipendente da Via Giovio. È un progetto che è spalmato su più anni. Noi in variazione di bilancio lo scorso ottobre abbiamo stanziato circa 5 milioni sui musei e contestualmente abbiamo anche stabilito quelle che erano le priorità. Partiamo con il Gariballi per poter anche iniziare a fruire di alcune sale, magari quelle della collezione romana in primis. Gradualmente nel 2024 ci attaccheremo anche nel Museo Giovio. Le tempistiche sono verosimilmente 2025 per iniziare a rifluire i musei.